Buongiorno ragazzi e benvenuti nel mio canale allevamento materiale di Raffaele al foglio. Oggi vi mostro le mie coco. Novellina. Via. Via. Avorio. Via. Spezzato. Mi assalgono. Come devo fare con questi animali? Spezzato di quest'anno ragazzi. Questo resterà con me. Un bel maschietto. Guardate. Un bel maschietto. Spezzato. Bianchi e azzurro. Come il Napoli. Anche loro sono di cose del Napoli. Praticamente le devo scacciare. Ringrazio tutti gli amici che ogni tanto mi chiedono video sulle coco. Queste sono le mie coco. Vedete ragazzi? Lui è sempre qui. Beh. Che devo dirvi? Grazie. alla riscossa vorrei chiudere il secchio del mangime ma non ci riesco è una lotta continua ragazzi dai non ci riusciamo ragazzi forse sì forse no non ci riusciamo ragazzi non ci riusciamo ragazzi non ci riusciamo ragazzi